Dopo aver seguito questa squadra nella gara giocata con il Villa Scorciosa, torniamo a parlare della Virtus Frentana alla vigilia dell'attesa sfida con il Sangro Fuzza. L'Alfredo Di Campi è il segretario della Virtus Frentana, una delle tante squadre di Lanciano. Come è andata dal momento in cui abbiamo realizzato l'altra intervista da adesso? Come siete andati? Dall'ultima volta che ci siamo visti il campionato è stato più che positivo combattendo diverse partite con pochi elementi in campo a disposizione però siamo sempre riusciti a raccimolare dei punti per poter muovere la classifica. Il nostro campionato è basato soprattutto sul stare insieme, divertirci e vivere lo sport in modo amichevole senza prefissarci chissà quali metri importanti. Voi tra l'altro avete anche un sito internet, vero? Sì, siamo stati forse la prima squadra a livello amatoriale a creare un proprio sito. Questo lo dobbiamo dire grazie al nostro allenatore, il mister Giulio Sigismonti che ne cura gli aggiornamenti. È un sito dove invitiamo le persone a poter visitarlo. L'indirizzo è www.virtusfrentana.net Infine, un giudizio sulle prime della classe. La 2M Cosmoseltic, lo abbiamo detto in tante occasioni, è la squadra più forte di tutte. Senz'altro la 2M Cosmoseltic è una squadra dove militano diversi giocatori che hanno una buona esperienza a livello calcistico e un'opinione di tutti che potrebbe benissimo militare anche in categorie non amatoriali ma professionistiche come seconda categoria, terza categoria. Benissimo. Grazie. Grazie.